Sono entrata molto carica in questa partita perché avevo voglia di dimostrare che mi meritavo quei minuti che mi dava in campo sin da subito, sia in difesa che in attacco. Volevo dimostrare che era una peddina fondamentale per questa partita anche perché era importante riuscire a conquistare questi due punti. Purtroppo ho riuscito a vincerla a Empoli perché è entrato nei primi due tempi, aveva molta più grinta di noi e noi non riuscivamo a sbloccarci. Mero male in qualche modo ci ho provato, però non è bastato. Ci aspetta una trasferta molto lunga perché dobbiamo andare a Campobasso. Campobasso è una squadra molto rostica e dobbiamo essere brave a entrare sin da subito con testa e mentalità e non entrare con timore di sbagliare e avere molta inventiva. Grazie. Grazie.